un saluto a tutti gli amici di smartworld.it benvenuti nei due minuti con smartworld di oggi lunedì 24 agosto 2015 iniziamo da android world perché questi sono sicuramente giorni molto caldi per chi è interessati a sapere cosa ne sarà dei prossimi modelli nexus che ormai è quasi certo che saranno lg e huawei rispettivamente oggi è il turno di scoprire di più sul nuovo huawei quello che abbiamo scoperto più di tutto il resto visto che di caratteristiche si è già parlato abbastanza è l'aspetto esteriore l'aspetto esteriore di questo fablettone che risulta particolarmente curioso e per molti anche particolarmente brutto abbiamo scoperto dai commenti che non vi piace affatto un design che ricalca forse un po il vecchio motorola razor sempre stiamo parlando di quello con android ovvero la parte con le fotocamere che sporge leggermente frontalmente invece abbiamo i due speaker frontali come sapevamo probabilmente un design abbastanza curioso e che secondo me qui mi voglio sbilanciare una volta che sarà lanciato potrebbe convincere più di quanto invece non ha fatto per adesso con queste foto un po rubacchiate dalla rete passiamo invece a smartworld.it dove vi abbiamo parlato di vestiti smart di microsoft che vi daranno un piccolo impulso elettrico quindi una piccola scossa per avvisarvi della ricezione di una notifica una cosa che sicuramente vi farà vi farà quantomeno sorridere quantomeno bizzarra ancora più interessante però gli indossabili smart intesi come magliette smart possono per esempio correggere la vostra postura dirvi se siete seduti da troppo tempo sempre la smartworld una seconda notizia minore per gli utenti firefox come me io mi dichiaro utente firefox grandi novità in arrivo visto che ci sono grossi cambiamenti che lo spingeranno a essere molto più simile molto creato molto più similmente a come creato chrome ultima notizia di che voglio commentare oggi con voi è una notizia che riguarda nokia che non è una vera e propria notizia è un'ipotesi un analista ipotizza che nokia la nuova nokia potrebbe arrivare sul mercato non solo con degli smartphone android cosa che ormai quasi certa ma anche con degli smartphone o dei telefoni di fascia abbastanza bassa con un sistema operativo proprietario un po come era con s60 ai tempi del ai tempi del simbian però è un'ipotesi è un'ipotesi che io voglio commentare con voi secondo me è interessante ma è anche molto molto difficile che accada perché richiederebbe un investimento che a mio parere nokia ancora al momento non può fare per questi due minuti con smartworld è tutto un saluto dai manuali ciso grazie a tutti grazie a tutti